Com'è possibile che un dolore alla schiena o alle ginocchia possa derivare da un piede? Allora, ricordiamoci che l'unico pezzo o parte del nostro corpo che appoggia sulla terra sono i piedi. Tutto il resto è nell'aria sospeso. Quindi il piede influisce per forza su tutto quello che sono le strutture sovrasegmentarie, dalla caviglia al ginocchio all'anca alla schiena. Il problema è che non avendo una visione appunto di insieme, la medicina europea tradizionale tende a vedere il pezzo da riparare o il pezzo che fa male e non capire come questo pezzo si è magari disfunzionato, cioè messo fuori posto solo perché il sistema non funziona. Cambiando l'appoggio dei piedi si vedono delle ripercussioni a tutti questi livelli. Ecco, quali sono i problemi che può dare camminare male? Allora, molta gente che ha fatto, per esempio, dolore alla schiena, lombalgia prendiamo, un caso classico, e che ha fatto già fisioterapia, non c'è un danno strutturale vero e proprio, ma c'è una malposizione, c'è una ernia, ci sono delle situazioni che si sono create perché lavorava male, nessuno pensa a guardare i piedi. Mentre molte volte un piede diverso dall'altro, un piede non so che va in dentro, l'altro che va in fuori, uno che è piatto e l'altro no, creano delle disfunzioni su tutta l'arto inferiore corrispondente che arrivati a livello lombo-sacrale, dove i due arti si uniscono per sostenere la colonna, crea delle disfunzioni. Quindi a volte con una semplice, io la chiamo terapia ortesica plantare, proprio per non confonderci con i plantari che sono in commercio, si riesce a modificare questo assetto meccanico e posturale e la persona immediatamente ha un sollievo dai suoi problemi, o di ginocchia o di schiena, ad esempio. Ecco, ma che tipo di visita bisogna fare? Perché noi vediamo delle immagini di una visita che viene fatta per decidere dei plantari. Io sto portando avanti la figura del podoiatra in Italia, che è una figura ancora sconosciuta, esiste il podologo, l'ortopedico, il fisioterapista e il fisiatra, tutte figure differenti. Il podoiatra ha una visione globale, cioè lui guarda dal piede il corpo umano dal punto di vista biomeccanico e lo integra con nozioni di neurofisiologia posturale, per capire non solo come è fatto, perché la variabilità della morfologia può essere indifferente sulla patologia, ma soprattutto come funziona, perché il malfunzionamento crea una serie di reazioni a catena, ripeto, dal piede a salire, che poi portano al dolore quando gli esami non dicono che non c'è niente. Oppure ci sono degli esami, faccio un esempio la fascite, che dice che c'è un dolore, la fascite non esiste come termine, ma la fasciosi, la degenerazione di un tendine d'Achille, di una fascia, che negli anni si rovinano. Perché? Come un'artrosi anche. Semplicemente perché l'appoggio dei piedi e quindi del ginocchio e della schiena hanno spostato le forze in gioco e hanno caricato di più una parte che l'altra, come accade in una macchina che ha l'equilibratura e la convergenza fuori posto. In questo i plantari possono essere d'aiuto? Allora, i plantari che esistono la maggior parte in commercio no, perché sono dei dispositivi preformati, semplicemente adattati alla persona, magari da un tecnico che non può e non è in grado di visitare, o prescritti genericamente, troppo genericamente, da un medico che non ha conoscenza di questa terapia. Abbiamo visto che in fitoterapia, prima si parlava di principi attivi da conoscere e da interagire con vari fattori, in terapia ortesica partare bisogna fare la stessa cosa. Ci vuole un podoiatra che faccia una visita, che prescriva una terapia ortesica che venga realizzata su misura, su calco, in maniera assolutamente personalizzata. È molte volte diversa da destra e sinistra addirittura. Certo. Senta, questo del mettere male i piedi è un problema che spesso inizia da piccoli, no? E spesso si dice, va bene, ma tanto crescendo poi si aggiusta la postura. Non è esattamente così. No, perché se fosse così non ci sarebbero adulti che hanno ginocchia valga, piedi piatti, piedi pronati, piedi cavi, quindi vuol dire che lì la natura si è dimenticata o si è distratta un attimo. No, la natura molte volte, grazie a Dio, aggiusta le cose, ma non sempre. Ed è lì che interviene il podoiatra intelligente che, seguendo regolarmente nella crescita del bambino, vede se quella patologia si può dire solo disfunzionale legata al periodo o se invece si protrae nel tempo e quindi creerà dei problemi in età adulta. Quali sono i problemi più frequenti nei bambini? Allora, usando la terminologia più conosciuta, che io non condivido ma per far capire al pubblico, il piede piatto, che viene confuso col piede pronato, perché il piede piatto può essere fisiologico fino ad una certa età e diventa patologico in un'altra. Ma soprattutto bisogna passare da una visione statica, dove normalmente il pediatra o l'ortopedico metteva il bambino su un podoscopio e diceva, ah c'ha l'orma così e così. L'orma non è diagnostica di niente. Quello che conta è vedere camminare le persone e cercare di interpretare questa camminata in termini fisiologici o patologici. Grazie, grazie professore.